Ben tornati, ben tornati sul canale, dunque ieri giornata agrodolce per quanto riguarda le squadre italiane impegnate nella UEFA Champions League, vittoria per il Milan anche se abbastanza faticosa, sconfitte per Bologna, diciamo preventivabile sul campo dell'Aston Villa e della Juventus invece questa un po' meno prostigabile, anche se io qualche settimana fa avevo messo in guardia sullo Stoccarda, io so che purtroppo in Italia il calcio estero si segue poco perché fondamentalmente all'italiano il calcio non piace, piace tifare e piace gufare, che non vuol dire piace lo sport in sé per sé infatti viene praticato in maniera superficiale sempre da più persone, in maniera superficiale quindi seriamente da poche e i veri amanti del calcio in senso proprio come sport in Italia, a meno per la mia esperienza, sono veramente pochi cioè un conto è l'amore per la propria squadra, un conto è l'amore per lo sport e a me per esempio, io per quanto possa amare l'Inter, ma se io dovessi scegliere tra un calcio senza Inter e un Inter senza calcio, come è possibile? È possibile nel senso che o c'è l'Inter o non esiste il calcio, in questo senso qua? Io dico no, vabbè, io mi tengo il calcio invece tanti, io dico no, senza l'Inter non c'ha senso, per me no, non è così e quindi il calcio estero non è seguito così in maniera proprio assidua e anzi direi veramente poco, ma anche non solo dai tifosi, per carità, lì è uno anche per ragioni di tempo mi rendo conto che non è che tutti fanno per mestiere l'analista di calcio, che sono anche obbligati ecco, anche gli analisti non seguono il calcio estero e quindi tanti sono rimasti ah, lo Stoccarda è lo Stoccarda ma anche per esempio ieri su Sky, Fabio Capello, ho sentito, parlava di poca qualità le squadre italiane vanno in difficoltà contro squadre straniere quando alzano i ritmi anche al cospetto di squadre con poca qualità, come ad esempio lo Stoccarda insomma lo Stoccarda a poca qualità, si possono di tante cose sullo Stoccarda ha diversi difetti, non a caso, vabbè a parte la sconfitta Casalinga all'esordio con Real Madrid facendo una grandissima partita, peraltro il Bernabeu ci sta, ma poi aveva pareggiato in casa lo Spartapraga, lo Spartapraga è pescato dall'Inter, ah lo Spartapraga, occhio ecco, quindi qualche difettuccio ce l'ha, ne ha presi quattro al Bayern Monaco si è sfaldato negli ultimi minuti, ma che non abbia qualità, no a proposito di Sky, vi faccio ascoltare questo commento finale ieri alla giornata di Champions perché da qui prendiamo le mosse per poi commentare il tutto vi ha sentito quello che diceva il mister poco fa, però la questione di questo calcio che va a due velocità, quell'europeo che forse schiaccia un po', un ritmo che oggi però posso aggiungere una cosa su quello che aveva detto il mister, 20 giorni fa la Juve va all'Ipsia e fa una partita incredibile contro la seconda in classifica che è 8 punti avanti all'Ostocarda, la Juve sinceramente credo che si possa dire, nelle ultime tre non è che abbia entusiasmato oltre a questa perché contro la Lazio possiamo dire che non è andata forte e contro il Cagliari, insomma, quindi forse non è, dopo quella partita lì io credo che qualcosa, insomma, forse hanno pensato di essere forti e bravi, ma non lo penso, però vedendo le altre tre partite, oggi hanno preso, sono stati veramente travolti fisicamente, poi noi guardavamo anche la partita e ci sono partite in cui sembriamo veramente andare un puntino più piano, ma lo stesso Milano oggi, non è che il Milano è che il Milano è questo, Milano e Juventus, appunto, hanno giocato due partite molto simili, il Milano non è l'aiuto, poi Milano si è messa bene la cosa. In queste partite, tre partite che abbiamo visto, il Milano in campo sono stati due portieri, Magnano e Perino, ragazzi, giocavamo in casa, non è che giocavamo fuori. Mister, no con una o due parate, no, no, Milano è stato quasi un eroe, fosse finita a zero a due, l'eroe. Il Milano è disordinato come l'attacco, anche io dico anche l'atteggiamento. Di volte che partono, vanno in porta, tirano. Eh, però, oltre ai disordinati, abbiamo sempre detto che non è equilibrio, abbiamo detto con Billy che però, quando tu riprendi la tua posizione nella regola, sei cinque contro due e poi due. Insomma, abbiamo capito, no, scusate un po' la maniera rudimentale con la quale vi ho fatto ascoltare questo spezzone di Sky, ce l'avevo sul telefono, con Sky Go. Beh, devo dire che hanno centrato il punto, almeno per quanto riguarda le italiane, almeno per quanto riguarda le italiane. E la Juventus, ragazzi, male, male, male. La Juventus, malissimo. Costa Curta ha detto travolti, effettivamente sono stati travolti. Quindi, queste sono le statistiche da Sofascore le ho prese. E come potete vedere, insomma, al di là degli expected goals, ma fa impressione le parate. Nove parate per Perin, tra le quali quella su calcio di rigore, quindi, insomma, tre-quattro miracoli più un rigore, tiri totali 22 a 7. Grandi occasioni per la Juve, zero. Cioè, parliamo di veramente un abisso. Cioè, se è visto un abisso. E non è questione tanto di... anche di possesso palla, perché come vedete, possesso palla 51% a 49%. Ma parliamo di veramente di un abisso che si è creato tra Juventus e Stoccarda. Chi se ormai se lo sarebbe aspettato? Beh, come vi dicevo, seguendo comunque il calcio estero, lo Stoccarda ha un tipo di gioco che può dar fastidio a diverse squadre. Alla Juve mancava qualche giocatore sicuramente di rilievo. Bremer mancherà tutta la stagione, ma non è stato tanto quello, secondo me. È mancata più qualità dalla cintola in su. E chiaramente non mi riferisco a Douglas Lewis, non mi riferisco tutto a Kupemainers, a Nico Gonzalez. Il resto, poca roba. Poca, poca, poca roba. Ma in generale lo Stoccarda ha letteralmente dominato il match. Un conto è perdere, perché si può perdere con chiunque nel calcio, lo diciamo sempre. Un conto è, come hanno ricordato appunto Costa Curta di Cagno, Capello. Quindi, gente insomma che tutt'è fuorché anti Juve. La Juve è male male, ma non è la prima. Ragazzi, io ricordo e vi ricordo anche le partite con l'Ipsia e col PSV nei primi 20 minuti. PSV si presenta tre volte davanti al portiere nei primi 20 minuti. Poi finisce in gloria e quindi ci dimentichiamo tutto. Ma l'evoluzione del match va letta. Come va letta l'evoluzione del match con l'Ipsia. Quella partita la Juve l'ha vinta meritatamente, perché con grande caparbietà è andata a cercare anche il gol in inferiorità numerica. Ma a livello difensivo è stata una prestazione brillante, tutt'altro. Grandi dei meriti degli avanti dell'Ipsia, ma se fosse finita 8-2 nessuno diceva niente. E non esagero, non esagero. Anche l'Ittera di Gregorio, sì, di Gregorio, barra poi Perin. e un paio di salvataggi di Cambiaso sulla linea. E uno pure di... non ricordo chi altro. E 4-5 palle gol proprio clamorose e sciupate dagli attaccanti dell'Ipsia. Poi è finita come è finita. Ma se guardiamo tutta la partita, prima e dopo il rosso, la Juve riusciva a pungere, molto più rispetto a ieri che ha fatto quasi zero, e ma dietro barcollava. Quindi, ok, la Juve non subisce gol, la sua azione, tutto quello che volete, eccetera, eccetera. Anche se poi Cesco in realtà segna la sua azione. Ma mi sembra quasi ritornare in dirò di 12 mesi. La Juve prende pochissimi gol, è solida, è sempre la Juve, ha il DNA, eccetera, eccetera. E io dicevo, sì, raga, però sono tutte partite che se ho finito 1-0, poi potrebbero finire pure 0-1. E non sempre è così, perché per esempio, ricordo quell'Inter che magari finiva 1-0, e non è che potevamo finire 0-1, potevamo finire 10-0. Lì c'erano altri problemi. Ecco, mi sembra un po' di tornare a quei... Anche a livello di comunicazione, come ha parlato ieri, a come ha parlato ieri Motta, mi sembra quasi di risentire con maggior filosofia, maggior capacità di esposizione allegri. Vedo dei cambiamenti, ovviamente sì, non sto negando, però mi sembra che alcuni singoli, soprattutto, siano ancora legati a un vecchio stile di gioco, ieri... anzi, forse hanno fatto pure peggio. Non ha fatto tanto meglio il Milan. È entrato male, salvato dalla Traversa, salvato da Mignan, in casa col Bruges, col club Bruges, peraltro, che è una squadra seria. Attenzione, il club Bruges è una squadra seria. In Champions League raramente non trovi squadre serie. e vi dicevo appunto Spartapraga, ha beccato Spartapraga, Spartapraga ha pareggiato a Stoccarta, nel penultimo tour. Quindi, attenzione a chiunque. Però si è visto il Milan Scollato ancora, che concede tanto... veramente, quando dicevamo... quando dicevo... quando dicevo... sì, il derby, giocato benissimo, ma soprattutto per dei meriti dell'Inter. E adesso, dopo il derby, dove il derby Fiorentina, Udinese, Bruges, 3-1, col Bruges che regala praticamente il primo gol direttamente da Calciodan. Regala l'espulsione, nonostante lo svantaggio e l'uomo in meno, il Bruges pareggia. Mi sembra un po' di rivedere, per certi versi, Minaslavia-Praga dell'anno scorso, quando il Milan era genso per la numerica dopo il primo tempo, ma prendeva azioni, prendeva pure gol. Quindi, buoni soltanto i tre punti, ma... continua la... la fase veramente interlocutoria di questo Milan. Il Bologna è... veramente lo specchio di italiano, nel bene e nel male. Se la gioca a testa alta, anche con qualità, anche con trami gioci molto interessanti, ma non segna mai. non segna mai e prende gol sciocchi, come ne ha presi anche in campionato contro il Genoa, e vanifica tutto quello che è di buono. Insomma, per certi versi, mi sembra di rivedere la Fiorentina. Non c'è stato quello switch, quell'evoluzione, in italiano, che ci si poteva aspettare, e che era lecito aspettarsi alzando il livello, manca ancora qualcosa. Se mette dentro anche al concretezza, no? Pragmatismo, lì dove manca, e non credo che lui non voglia italiano, chiaramente, ogni allenatore ha un suo tallone da kill. Ecco, l'italiano deve mettere dentro quella roba lì, e allora inizia a dire... Poi è chiaro, con la Stonvilla puoi perdere in ogni caso, anche se va in vantaggio, perché è una squadra a sedia, è una squadra di livello, non a casa a nove punti ha battuto pure il Bayern, quindi non stiamo parlando di una prestazione da buttare, da cestinare, non stiamo... non sto paragonando la prestazione del Bologna a quella di Juve e di Milan, soprattutto quella è la Juve, chiaramente. Però è un pecc... diciamo, parlando del Bologna, vedendo la parte del Bologna, è stato un peccato che non sia riuscito a giocarsela ancora di più, si è giocata finché il risultato è rimasto in bilico, peccato, peccato, peccato perché pure con Liverpool poteva andare in vantaggio, insomma, sembra quasi vorrei ma non posso, vorrei ma non posso. Per il resto, ragazzi, vi vado a leggere velocemente i risultati, Monaco umilia la Stella Rossa 5 a 1, anche se il Quinto Coro arriva nel recupero, e il primo tempo era 1 a 1 e prende gol la Stella Rossa stupidamente nell'ultimo secondo del recupero del primo tempo, il 2 a 1 e poi di là che è il Monaco con un grande Minamino, l'Arsenal che era partita fortissima con lo Shakhtar, vantaggio con un autogol del portiere, sembrava poter farsi solo un boccone dello Shakhtar, invece resta 1 a 0, sbaglia a rigore Trossara, si fa male, Calafiore al ginocchio, movimento pessimo, speriamo che il guaio non sia direttamente proporzionale all'impressione che ci fa quando abbiamo visto quel movimento lì. Il Girona vince i primi punti, vince 2 a 0 con lo Slovan Bratislava, privo peraltro degli ex italiani Weiss e Kucca. Real Madrid da 2 a 0, Dortmund da 5 a 2 nell'ultima mezz'ora, apre Rudiger, chiude Vinicius con una doppietta, il solito Real che quando poi le cose si mettono male in un modo o nell'altro riesce a sfangarlo, Sporting Passa con lo Sturm Graz da vedere, un grandissimo gol di Giocheres, il numero 9 che secondo me sarà l'uomo del mercato se non già a gennaio sicuramente alla prossima estate, la grande sorpresa arriva da Parigi. Paris Saint Germain, PSV e Eindhoven, 1 a 1, vantaggio del PSV con Lang, pareggia Hakimi, in realtà è una paveraccia di, il portiere del PSV non ricordo lo mi chiamo, ma scusate, lo Suarez, Benitez, Benitez, è una brutta paveraccia, tanti gol sbagliati dal PSV, ancora una volta Scrinia al solo panchino, non è proprio entrato, non è entrato neanche Beraldo, peraltro ormai Luis Serrique si è fissato con Paccio, che devo dire è un bel prospetto, mi aspettavo molto di più dal PSV, non è entrato, sta brillando, non sta brillando, lavoro secondo me apprezzabile, quello di Luis Serrique che sta provando a dare una logica, dopo i grandi fasti, dopo i dolci, e diciamo la buffa degli anni passati, il PSV si sta dando una regolata, corretta, secondo me l'indirizzo è corretto, ancora delle scorie, ancora un po' come il Milan, stasera l'Inter, dovrebbe essere formazione confermata, quindi con, dicevo dovrebbe essere formazione confermata, con Sommer tra i pali, Pavard, De Frey, Bissek in difesa, Danfries a destra, Carlos Augusto a sinistra, Frattese e Mkhitaryan ai fianchi di Barella, e Arnautovic e Taremi di punta, dunque non c'è Ciala, non c'è Aslani, chiaramente non ci sono Correa e Palasios, che sono, credo abbiano volato comunque con la squadra per allenarsi insieme, e mancherà Cerbi, e ancora Buchanan, torna Celis che dovrebbe entrare, speriamo che insomma, la pratica, perché così sembra essere quella dello Young Boys, che è decimo, anche il Cambiamo Svizzera, la pratica sia risolta, come tutti speriamo, perché sarebbero tre punti molto importanti, considerando anche che poi l'Inter avrà in rapida successione, l'Arsenal, parlo sempre di Champions, e l'Ipsia, poi a gennaio si chiude con Monaco e Sparta Prata. Un saluto.